E' prevista in quest'ora l'Assemblea degli Addetti alle Pulizie del Cara di Bari, convocata da Cigelle Cisle Will all'interno del Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo a Palese. Martedì scorso i sindacati avevano chiesto alla Prefettura di sospendere il bando di gara, scaduto venerdì scorso, che prevedeva una base d'asta di circa 21 milioni e mezzo di euro per tre anni di gestione, richiesta ignorata e, stando ad alcune voci, il 15 ottobre prossimo si procederà alla giudicazione della gara. A far montare la rabbia di sindacati non è tanto l'appalto spezzatino, e cioè la divisione in quattro rotti, gestione, pasti, pulizie e vestiario, ma i criteri utilizzati dalla Prefettura di Bari per fissare le poste economiche a base d'asta per ognuno dei quattro rotti. Dicevamo di un appalto definito spezzatino dagli stessi lavoratori e sindacati, diviso in quattro rotti, scritto su una base di 744 migranti ospiti del Cara, non tenendo però conto che in dieci anni lo stesso Ministero dell'Interno avrebbe autorizzato l'inserimento in media di 1.200 stranieri l'anno. Chi vincerà il lotto pulizie potrà quindi tagliare senza alcun problema almeno 70 lavoratori ed oggi nel corso dell'Assemblea sarà decisa una nuova data di protesta, una protesta imponente che partirà da Palese e approderà proprio in Prefettura Bari.